La Chiesa di San Paterniano Al centro pastorale di Ocesano è presentato l'inventario dell'archivio storico del capitolo della Cattedrale di Cagli curato dall'archivista Massimo Bonifanzi. Economie e comunità solidali, sabato 18 giugno il Vescovo e la comunità cristiana incontrano le associazioni sociali ed economiche. La scuola dell'infanzia di Cucurano è intitolata Federico Seneca a scoprire la targa e il figlio Bernardino. Ben trovati a questa edizione del TG Web. Apriamo il nostro telegiornale con la solennità del Corpus Domini celebrata domenica 29 maggio nella Basilica Giubilare di San Paterniano. Il Vescovo durante l'Omeria ha messo in evidenza come l'Eucaristia è la vera rivoluzione della Chiesa e ha invitato a vivere un'Eucaristia in uscita. Vediamo il servizio. Una celebrazione molto partecipata dalla collettività e dalle autorità civili e militari della città. Parliamo della solennità del Corpus Domini celebrata domenica 29 maggio nella Basilica Giubilare di San Paterniano. Il Vescovo ha sottolineato nell'Omeria come l'Eucaristia rappresenti la vera rivoluzione della Chiesa, lo strumento che consente di operare in concreto nel mondo al fine di diffondere il messaggio di Cristo e ha invitato a vivere l'Eucaristia in uscita. Tutti dovremmo spenderci, ha affermato il Vescovo per gli altri, in particolare per i più bisognosi. Ha poi invitato tutti a prendere parte alla rivoluzione dell'Eucaristia, portando attivamente il messaggio cristiano nelle strade, perché per amare è necessario coccolare l'amore. Al termine della celebrazione, la consueta processione verso la cattedrale. E dalla Basilica di San Paterniano ci spostiamo sul Monte Catria, perché sabato 11 giugno verrà riaperta, dopo i lavori di sistemazione, la chiesetta di San Pierdamiani in località Infilatoio. Don Francesco Pierpaoli ci illustra il programma della giornata. Provocati dalla laudato sì di Papa Francesco, che ci invita a custodire il creato, a prendercene cura, e guardando un po' anche il territorio della nostra diocesi di Fano, Fossomerone e Caglipergola, dobbiamo dire che abbiamo tantissime belle montagne. E su queste montagne, in particolare quella del Catria, c'è una chiesetta dedicata nel 1972, quindi proprio nel millenario della fondazione dell'eremo di Fontavellana, che è proprio alle pendici del Catria, dedicata a San Pierdamiani e a coloro che hanno vissuto in quei luoghi. In questi anni, devo dire la verità, molte volte siamo andati in quella chiesetta e la vedevamo un po' chiusa e tascurata. Allora, ripeto, sollecitati da Papa Francesco e guardando anche le tante persone che camminano per i nostri monti, abbiamo deciso di riaprirla. E l'11 giugno compiremo proprio questa riapertura che ha fatto sì che in un anno rimettessimo un po' a posto il tetto, le finestre e le diverse situazioni un po' precarie di una chiesa che è stata sferzata dal vento, dal ghiaccio, dalla neve, dall'incuria. L'11 giugno finalmente la riapriremo grazie anche al lavoro di tanti volontari, grazie anche ai contributi che tanti hanno potuto dare. Penso semplicemente ai frontonesi di San Francisco che hanno fatto una colletta proprio in vista della Madonna del Buon Consiglio di mille euro che ci hanno fatto pervenire insieme anche alla nostra diocesi. E quel giorno, l'11 giugno, confluiranno proprio sul Monte Catria, in località in filatoio, tante persone, dai bambini ai ragazzi, agli adulti, perché vorremmo che veramente questo giorno segni il primo passo di una riapertura, cioè una chiesa che poi durante l'anno possa essere a 1500 metri fruibile da tutti. E' per questo che quindi la giornata vorrà essere non solo la messa con il Vescovo, che poi sarà il momento clu, ma sarà aperta da una passeggiata che faremo dalle 7.30 della mattina fin verso le 10, per coloro che sono un po' più coraggiosi, partiremo dalla località Caprile, dove parte la funivia, e arriveremo fino alla località in filatoio. Per coloro che hanno più difficoltà, la macchina, oppure ha anche un prezzo molto basso, concordato, la possibilità di utilizzare la funivia. Alle 11 avremo un concerto davanti alla chiesa dell'infilatoio, alla chiesa di San Pierdamiani, in località in filatoio, che verrà preceduta da un breve pellegrinaggio sulla Via della Misericordia. Abbiamo fatto un percorso che riprende proprio le 12 opere corporali e spirituali che il Papa ci invita a vivere in questo anno giubilare. Arriveremo per un concerto, ci saranno le autorità che faranno i loro interventi e poi la messa con il Vescovo alle 11.30, a cui tutti siamo invitati a partecipare. Dopo la messa, ancora, avremo un momento di festa e di fraternità, perché gli amici di Frutontone, dell'azienda speciale del Catria e dell'Università degli Uomini Originali, hanno preparato la porchetta e un piatto di pasta per tutti. Vorrei terminare proprio leggendo con le parole che Papa San Giovanni Paolo II, quando arrivò proprio alle pendici del Catria, disse nel 1982 «Voi che abitate quassù, sugli stessi monti contemplati dagli eremiti di San Pierdamiani, siate dunque anche i primi, in questo cammino di elevazione, ad alzare gli occhi al cielo, perché così diventeranno più belle e anche più facili le vie della terra». Ecco, che questo invito di San Giovanni Paolo II possa diventare vero, anche grazie a questa giornata a cui tutti siete invitati. Vi aspettiamo l'11 giugno sul Monte Catria. Venerdì 27 maggio, alla presenza del Vescovo Armando, è stato presentato l'inventario dell'archivio storico del capitolo della Cattedrale di Cagli, curato dall'archivista diocesano Massimo Bonifazi. Un supplemento di Memoria Rerum interamente dedicato all'inventario dell'archivio storico del capitolo della Cattedrale di Cagli, realizzato dall'archivista diocesano Massimo Bonifazi, è stato presentato lo scorso venerdì 27 maggio al centro pastorale diocesano. A condurre la serata, Guido Ugolini, direttore della rivista Memoria Rerum, nonché direttore del Museo diocesano e responsabile dell'arte sacra diocesana. Il Vescovo Armando, dopo aver elogiato il certosino impegno di Bonifazi, ha ricordato l'importante intuizione avuta nel lontano 2010 di trasferire l'archivio diocesano di Fano dai locali di Via Rainerio ai nuovi attrezzati depositi e locali della sede di Via Roma e contestualmente di dar vita ad una rivista annuale capace di far emergere e diffondere l'ingente millenario patrimonio storico e documentale conservato. L'assessore alla cultura del Comune di Cagli, Assunta Valeri, ha invece posto l'accento sull'importante ricaduta che la pubblicazione ha sull'intera comunità e vita culturale cagliese. Guido Ugolini ha poi letto l'intervento spedito da Perugia dal sovrintendente archivistico per l'Umbria e le Marche, Mario Squadrone, che pur impossibilitato a partecipare alla presentazione, ha voluto ugualmente portare un saluto e un'ampia recensione, più che favorevole, al lavoro archivistico svolto da Bonifazi. Giuseppe Cucco, delegato regionale per i beni culturali ecclesiastici, ha messo in luce come la realizzazione e la successiva pubblicazione di tale volume sia di estrema importanza, non solo perché è in grado di testimoniare la valenza storica e l'unicità della consistente documentazione conservata nel suo detto archivio capitolare, ma anche di quanto si è potuto fare grazie al prezioso e proficuo contributo dell'otto per mille. Ad Anna Falcioni, docente di storia medievale dell'Università Carlo Boi di Urbino, è aspettata la vera e propria presentazione di quanto contenuto all'interno del voluminoso inventario, enunciando ai presenti la storia e la giurisdizione del soggetto produttore dell'archivio, ovvero il Collegio dei Canonici della Cattedrale di Cagli. La metodologia di lavoro, la struttura archivistica dotata dall'autore in fase di riordino e schedatura del fondo, emettendo infine in evidenza le molteplici tipologie documentali descritte all'interno. Infine, Massimo Bonifazi, archivista diocesano e autore del volume, ha messo in evidenza come un documento non sia solamente una fredda e asettica raccolta di contenuti e dati storici, ma sia un tramite privilegiato per far rinascere e riemergere sentimenti e sensazioni sopiti, ancora pienamente capaci di emozionare e coinvolgere sentimentalmente i frutturi d'archivi. E rimaniamo sempre al centro pastorale diocesano, dove sabato 18 giugno, dalle ore 9 e 30, il Vescovo e la comunità cristiana incontreranno le associazioni sociali ed economiche. Tema della mattinata sarà Economia e comunità solidali. L'incontro rientra nel percorso di appuntamenti rivolte a tutti gli operatori sociali ed economici, che ha come filo conduttore l'impegno nel presente lo sguardo sul futuro. Ne parliamo con il direttore dell'ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, Gabriele Darpetti. Sabato 18 giugno, alle 9 e 30, ci sarà questo incontro Economia e comunità solidali, in cui il Vescovo incontra gli operatori sociali ed economici. È il quarto anno che facciamo questo incontro e l'obiettivo è quello di riunire, mettere insieme tutti coloro che operano sia nelle attività sociali sia nelle attività economiche. Ci rendiamo sempre più conto che tenere separati questi due ambienti, oggi in una società che connette tutto, che è sempre più veloce, è sbagliato. Allora l'obiettivo che ci siamo prefissi è quello di incentivare la collaborazione tra soggetti diversi che spesso collaborano ma anche a volte rischiano di essere un po' chiusi nei loro mondi e quindi creare le condizioni per essere sempre più presenti nella società e quindi lenire i bisogni anche nell'immediato, ma avere anche uno sguardo sul futuro e progettare la nostra comunità e i nostri destini per quanto riguarda i prossimi anni. Inizieremo al mattino alle 9 e 30 con l'intervento del Soccellenza Monsignor Trasarti, poi ci saranno alcune comunicazioni programmate e poi il dibattito, il tutto per concludere entro le 12 e 30. Grande festa sabato 28 maggio per i bambini e gli insegnanti della Scuola dell'Infanzia di Cucurano che è stata intitolata al fanese Federico Seneca. A scoprire la targa insieme ai bambini e agli insegnanti il figlio di Federico Seneca, Bernardino, il resoconto della mattinata nel prossimo servizio. Grande festa sabato 28 maggio per i 65 bambini e gli insegnanti della Scuola dell'Infanzia di Cucurano che proprio sabato è stata dedicata al fanese Federico Seneca, uno dei più grandi grafici pubblicitari italiani. Tante le persone che non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento a cominciare dalla dirigente scolastica Frediana Benni che ha supportato le insegnanti nell'iter burocratico che ha portato all'intitolazione della scuola, la quale ha ringraziato Bernardino Seneca, figlio di Federico e sua moglie, per aver condiviso insieme ai bambini questo grande evento per tutta la comunità di Cucurano e non solo. Presenti tutte le insegnanti, i genitori, i nonni dei bambini e tutto il personale scolastico che hanno voluto fortemente prendere parte a questo appuntamento. A benedire i presenti, dopo aver scoperto la targa, il parroco di Cucurano Don Marzio Berloni che ha augurato un buon proseguimento di festa a tutti i bambini. Bernardino Seneca ha ricordato la figura di suo padre che nonostante il trasferimento a Milano ha sempre portato nel cuore la sua città natale Fano. La fiduciaria della scuola, Francesca Ciaccia, ha ringraziato poi a nome delle insegnanti Giacomo Falcioni, direttore della BCC di Fano per aver contribuito alla riuscita dell'evento il quale ha ringraziato i presenti, in particolare i bambini veri protagonisti della giornata. Fabiano e Beatrice dell'associazione Chiaroscuro per la realizzazione della targa con la tecnica del mosaico Florenzio Ferri e l'ufficio anagrafer per aver fornito alcune notizie importanti su Federico Seneca l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin che ha ricordato l'iter per l'intitolazione momento importante poiché dare un nome a una scuola significa darlo una propria identità e rafforzarne il rapporto con la comunità cittadina e tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo a questa importante giornata. I bambini della scuola si sono poi esibiti in alcuni sketch che hanno ricordato delle vecchie pubblicità un tuffo nel passato che ha fatto la storia. Per oggi è tutto vi ricordiamo che è possibile seguire questa edizione sul sito fanodioci.tv.it grazie per essere stati con noi arrivederci grazie per aver guardato il nostro canale